Se c'è una persona che ha fatto della comunicazione un'attività in grado di unire la promozione territoriale a quella dei giovani talenti, questa è senz'altro Umberto Labbozzetta. Calabrese di nascita ha costruito una grande carriera di rilievo nazionale, esperienza che ha scelto di mettere a servizio dei più meritevoli. Mi definiscono un comunicatore, a qualche mese mi occupo anche della comunicazione di ecotour legato alla riviera dei Cedri, e quindi di conseguenza un ruolo che in qualche modo ho voluto grazie soprattutto all'amicizia e al rapporto che mi lega con il mio territorio di nascita. Direttore della comunicazione a Casa Sanremo esprime la volontà di portare anche la calabresità all'evento più famoso d'Italia. Sanremo è una macchina, è una macchina da guerra per quanto concerne la comunicazione. Il brand Calabria straordinaria secondo me lo faccio mio, nel senso che mi piace molto e mi piacerebbe molto poter avere all'interno di Casa Sanremo nel progetto che stiamo preparando proprio qualcosa che ha a che fare con la Calabria, quindi in conseguenza Calabria straordinaria è secondo me molto importante. L'idea è quella di fare attività che possono rendere il nome della Calabria in un contesto di grande presenze, mediatiche ovviamente, ma che possono dare ancora maggiormente visibilità. Inoltre ha lanciato il progetto Play Your Music, partito dal Veneto, che ha visto tra i protagonisti un altro giovane calabrese, il cantautore Francesco Pintus. L'obiettivo è quello di costruire un progetto che possa in qualche modo sul territorio dare l'opportunità dei giovani talenti che selezionano ovviamente ascoltando i loro progetti, facendoli suonare su questo palco e anche pagandoli, nel senso che questa è la caratteristica di questa cosa. In una, tra le tante giacchierate che ho fatto con un altro ragazzo che si muove bene, che lavora molto bene, che è Davide Berletta, che stimo molto, mi ha fatto conoscere tempo fa Francesco, io ho sentito la sua musica e insomma la trovo veramente molto interessante. C'è un livello, un grado di professionalità dietro l'evento di Play Your Music che è una realtà suggestiva, non è facile trovarsi, non è facile muoversi anche magari all'inizio. Per me, per chi lavora e chi lavorava già con me nel progetto, il fatto che Umberto sia interessato e abbia messo un passetto dentro ci ha dato una grossa mano, ci sta dando una mano. Sono in tour per presentare questo disco, stiamo suonando in giro il più possibile dove possiamo, saremo giù in Calabria con un paio di date. Qui fino alla fine dell'estate si suonerà... Grazie a tutti.